Ragazzi, un'opportunità per le giovane band, andate su www.foofighters.it, caricate un video con una cover dei Foo Fighters e la band migliore aprirà Rocky Nidro il 15 giugno a Chilano. Invece per chi vuole vedersi un grande concerto e abita a Trieste ma anche nei dintorni, al Teatro Miela, dove ho suonato anch'io, venerdì 6 maggio, venerdì prossimo, ci sarà il grande John Waite, ex cantante dei Babies, dei Ben English, ha fatto un album eccezionale, è uscito ultimamente, perciò 6 maggio, Trieste, Teatro Miela, John Waite, e poi chi vuole sentire un altro grande concerto, venga il 6, venerdì a Sassari, a Vintage Club, venerdì questo, ci sono io, vi assicuro, sabato a Sassari, Vintage Club, 6 maggio, il giorno dopo, 7 maggio, siamo a Luonferrato, in provincia di Alessandro e al Mephisto, il 12 eccezionale concerto, sapete che con la conduttoressa Petro, con Caterino, ho fatto questo progetto per i bambini del Belize, andate rainbowbelize.org, e Resofonic, il progetto per l'acqua in Africa, mi ha regalato questo concerto per i bambini, perciò il ricavaggio del concerto andrà ai bambini del Belize, ci sarò io con la mia band, ci sarà Mario Riso, Caparezza, ci saranno un sacco di gente di Resofonic, sarà una sorpresa, ma sicuramente sarà un grande concerto. 13 maggio, vi aspetto a Legnano, in provincia di Milano, al Land of Life, il 14 a Massa Carrara, al Circolo Deep, il 19 a Cupra Marittima, Ascoli, Piceno, al Bad Bull, il giorno dopo, il 20 vi aspetto a Bari, al Target, il 21 vi aspetto ad Avezzano, provincia dell'Aquila, alla Discoteca Ruvido, e il 28 vi aspetto a Crevacuore, in provincia di Biella, al Dragon's Pub, sempre un road, Jack? E allora torniamo dagli amici su FaceBus, ci scrive Lorenzo, ciao Pino, pensate che all'età di 38 anni e con due figli mi sono messo a suonare la chitarra, e mi diverto come un ragazzino, la musica non ha limiti, mio figlio ha 4 anni e canta gli esibissi, sbaglio o lo sto plagiando troppo, ciao grande, per Lorenzo. Lorenzo continua così, vai bene.